Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione sul tratto appenninico per nebbia a banchi tra Rioveggio e Aglio e Nevischio tra Aglio e Elviglio per la variante di Valico. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Chiudiamo con i traghetti. A causa delle avverse condizioni meteo i collegamenti per le isole potrebbero subire cancellazioni e ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti.